A tutti buongiorno, il tempo di oggi sarà in gran parte soleggiato sul Piemonte e la Lombardia occidentale mentre all'est per lo più nuvoloso con qualche pioggia al mattino su Valtellina, rilievi bresciani e bergamaschi, fiocchi di neve oltre 1600 metri circa. Nel pomeriggio formazione di nubi cumuliformi che potrebbero portare isolati rovesci sulle prealpi e non esclusa qualche goccia anche altrove. Le temperature massime previste dai 16 ai 21 gradi mentre le minime tra 6 e 11 gradi.